Matteo Casalgrandi, presidente del tavolo culturale per il patrono della città e diocesi di Carpi, un commento diciamo su questa edizione 2024. Sì, siamo contenti di proporre alla città e alla diocesi anche quest'anno l'iniziativa legata al patrono 2024, abbiamo scelto un titolo che è Comunità in dialogo per un futuro di condivisione e di pace, un titolo che quindi riassume un po' l'impegno del tavolo e delle associazioni, delle parrocchie e degli enti che partecipano alla struttura di queste iniziative per appunto costruire insieme nella nostra quotidianità la pace che è un orizzonte che vogliamo tutti e vogliamo, siamo tutti attenti a provare a costruirla per il nostro futuro. Gli eventi che presenterai qui in conferenza stampa sui quali ti soffermi tu in modo particolare? Sì, in particolare c'è una ripresa di una iniziativa che già da diversi anni veniva fatta, poi è stata purtroppo interrotta, cerchiamo di riprendere il premio Mamma Nina, il premio dedicato alla venerabile Mariana Saltini che da un lato ci permette di continuare a conoscerla, a conoscere la sua figura, la sua vita applicata in modo così concreto al Vangelo. Dall'altra parte è la possibilità di far conoscere e premiare una realtà del territorio che si è distinta per la costruzione del bene comune e per la volontà di innovare nei temi dell'accoglienza e della fratellanza. Sul tema del dialogo, dell'ascolto, della costruzione anche del futuro non si può non pensare ai giovani, i giovani saranno coinvolti con un momento di concerto di band giovanili, verranno un po' da tutto il territorio diocesano e si esibiranno al cortile dell'oratorio Eden per un concerto dedicato appunto a cover ma anche a pezzi inediti e sarà un bel momento perché i giovani potranno stare insieme con uno dei linguaggi più cari a loro che è quello della musica.